Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video In questo nuovo video vi volevo dirvi Eeeh Vabbè, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Finalmente ho aperto il mio canale E il mio sogno si è realizzato Questa postazione di solito Non l'avete mai visto nei video Però dai, c'è sempre una prima volta Sono in cucina E sto, mi sto riprendendo E ci sono alcune domande Che mi avevano fatto su Whatsapp Io e le mie, cioè le mie amiche Me l'avevano fatto su Whatsapp Comunque iniziamo col video Un ask Questa è un ask Grazie a tutti per avermi fatto le domande su Whatsapp E niente, iniziamo Prima cosa Cioè prima domanda Come hai realizzato il tuo sogno Anzi no Come ti ha appassionato Come ti ha appassionato di fare video Si Allora Raga, io vi spiego Mi ha appassionato il video Di diventare Aiuto Aiuto, non riesco a parlare Perché questo è il mio primo ask Allora Questo video Mi ha appassionato molto A guardare i video Cioè a fare i video Perché alcune volte Guardo dei video Dei youtubers E questo mi portò Ad appassionarmi Anche di diventare una youtuber E quindi Sono E lo sono Sono e lo sono Ancora di più Mi sono appassionata Talmente tanto Che non Non ho più mollato Questo sogno E finalmente Questo sogno Si è Realizzato Ecco Come vedete Non riesco neanche a parlare Perché siccome sono emozionatissima Cioè Ve li sentite dalla mia voce Un po' così Seconda domanda Ti piace fare i video E montarli Si Mi piace fare i video Mi piace fare Soprattutto E montare questi video qua E praticamente Mi emoziona molto E poi Mentre monto i video Mi diverto Ogni cosa che faccio Mi fa sempre divertire Terza domanda Hai mai pensato Di fare un evento Non ancora Però Ci sto pensando Che forse In via vivai Numero 7 Cioè La mia scuola Forse Farò qualche evento lì Ma forse Alla fine dell'anno Neanche Neanche Qualche volta Questa domanda Allora Hai mai pensato Di Andare Al backstage Sì Però Quando non ero ancora Youtuber Per me Cioè Ero già Cioè Facevo già Degli eventi Cantando Sul palco Quinta cosa Realizzando No Ora che hai realizzato Il tuo sogno Sei felice? Ovvio ragazze Voi Festeggerete Con me Finalmente Sono felice Anche se sono Una non vedente Però Vabbè Non mi ne frega Allora Sinceramente L'importante È Il sogno Delle persone Quindi Realizzarli Mi fa sentire Molto felice E soprattutto Ci sono Ci tengo E sono fiera Sono veramente fiera Ed è Una cosa Normalissimo È una cosa normale Normale Quindi niente ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto E iscrivetevi Al mio canale E Cliccate un bel Mi piace Se questo video Raggiungerà Almeno Trentamila Mi piace Trentamila Like Farò Alcuna Qualche Altro Video Però Diverso Dal solito E niente Ci vediamo Nel prossimo Video Ciao Ciao